ben ritrovati buona domenica è la domenica del varo del 56esimo vinitali sul palco importante di verona fiere questa mattina l'inaugurazione ufficiale doveva esserci anche la premier giorgia meloni ma per via dell'attacco dell'iran purtroppo allo stato di israele nella notte ora italiana la premier meloni ha annunciato la propria presenza ma nella giornata di domani situazione internazionale permettendo questo che state vedendo è il video che è stato proiettato questa mattina alle 11 poco dopo le 11 quando ha preso il via la 56esima edizione del salone veronese un video proiettato per ricordare tutto il percorso che si è fatto per arrivare al varo di oggi è la 56esima edizione si tratta della prima fiera del vino e dei distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali vinitali nasce in italia verona ma la sua vocazione è internazionale da 55 anni quasi 56 è sinonimo di coinvolgimento dell'intera filiera agricola e vitivinicola globale da oggi a mercoledì quattro giorni dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori buyer e stakeholder ovvero portatori di interesse per condividere esperienze e competenze vinitali and the city accoglierà invece i wine lover nel cuore antico di verona una delle più importanti capitali mondiali del vino e anche delle più belle città d'italia presente al salone veronese anche la lombardia del vino dell'enoturismo e dell'impresa che gravita attorno a una delle voci più importanti dell'agra alimentare italiano nel mondo c'è a scovilo il consorzio dei consorzi del vino di lombardia e ci sono tutti i consorzi delle zone di produzione della nostra meravigliosa regione un saluto anche agli amici produttori vitivinicoli dell'oltre pop avese in alto i cuori perché saranno giorni importanti giorni di incontri giorni per fare affari giorni per rafforzare anche un'amicizia un fare comunità che sarà sempre più importante per il futuro anche economico del nostro mondo del vino lombardo abbiamo parlato tanto di vinitali l'abbiamo fatto anche nelle nostre trasmissioni dedicate continueremo a farlo crediamo fortemente che ci sia una nuova economia ad accogliere e che ci sia veramente da andare avanti per fare la differenza in italia e nel mondo anche con le produzioni che nascono in lombardia che è una regione unica straordinaria la regione d'italia con più vini certificati la regione d'italia che da sola esprime un'intera carta dei vini dall'aperitivo per arrivare al dessert con tanti terroir vitivinicoli fatti di piccoli borghi di paesi di storie di famiglie da scoprire e allora abbiamo preso un po più di un minuto questa domenica continueremo a farvi vivere vinitali raccontando velo anche nella nostra informazione online ve lo racconterò anche sul blog 45esimoparallelo.net grazie buona domenica e buon vinitali grazie a tutti grazie a tutti